Siamo con mister Paolo Triolo, noi abbiamo parlato spesso dei progetti di questa squadra, spesso della tua esperienza, della tua voglia di fare bene per l'ennesima volta e dobbiamo dire che un pizzico è arrivato anche il momento di raccogliere gli applausi perché la squadra sta facendo bene, non guardiamo più di tanto la classifica, sta crescendo e soprattutto è consapevole che ci sono tante difficoltà, però si sta facendo valere. Sì, hai detto bene perché la cosa più importante è che si è creato un bellissimo gruppo, nel senso che ci divertiamo, quella è la cosa più importante perché tra mille difficoltà, come hai detto tu, e piano piano stiamo raccogliendo quello che di buono stiamo facendo settimanalmente, anche, ripeto, tra mille difficoltà, però devo fare proprio un applauso a tutti i ragazzi perché domenica l'ultima partita è stata una partita, secondo me, per 60-70 minuti la migliore di tutto il campionato perché trovarti in 10 con un rigore regalato, un'espulsione ingiusta, un nostro giocatore, e poi non perdere la testa, nel senso che ci siamo messi in gambo con la giusta pazienza, la giusta calma, per raggirare l'avversario sugli esterni, con i cambi di campo, quello che ho detto al fine primo tempo di fare questo, di avere pazienza, è stata una delle migliori partite che abbiamo fatto perché di solito tu mi insegni anche per la tua esperienza in questi campionati che c'hai ormai da diversi anni e che queste partite purtroppo poi alla fine non si vingono ed è duro anche a pareggiarle. Invece siamo stati bravi a vincere le partite, questo è il motivo di, a nome sul cuore i ragazzi, perché glielo avevo detto a fine primo tempo che queste partite si vingono con il cuore, prima di ogni altra cosa. Ti volevo chiedere, rispetto a qualche anno fa, magari c'è qualche squadra di blasone in meno, c'è anche la questione dell'emergenza sanitaria che ha un po' tarpato le ali a qualcuno, però alla fine sono sempre tutte partite tiratissime. Ma guarda, partite purtroppo facili non ce ne sono, forse all'inizio, prima due o tre partite di campionato, un sacco di squadre non erano attrezzate perché magari tutti pensavamo che con questa epidemia, con il fatto del Covid, sarebbero di nuovo fermati i campionati. Per fortuna no, perché il calcio è vita, è salute e quindi siamo riusciti piano piano a riprendere e a ripartire. Per questo, ma ora si stanno attrezzando tutte le squadre, quindi è normale che come tutti i campionati ci sono quelle 4-5 squadre buone, ottime, per puntarsi al campionato e ai play-off. E poi ci sono le altre squadre, però come abbiamo visto non ce ne sono squadre materazzo, come si suol dire in gergo, perché tutti quanti stanno iniziando ad attrezzare. E noi niente, noi dobbiamo continuare per la nostra strada, dobbiamo andare tranquilli. A proposito di strada, si gioca al Città di Corigliano, quest'anno per il primo anno i Rangers giocano al Brillia. Tu che sei stato un beniamino del Tonino Sosto, un calciatore di ottimo livello al Città di Corigliano, e ho raccontato per tante tante domeniche le magie da calciatore e anche da tecnico, ma si sta risvegliando anche un po' di interesse rispetto proprio anche al calcio, visto che comunque i Rangers giocano in questa struttura e stanno cercando, ovviamente è una formazione che è nata nel 2018, però anche con umiltà stanno cercando di attirare un po' l'attenzione. Poi se stai lì in classifica è naturale. Noi più di quello che stiamo facendo, più di fare dei proclami alla gente che sta a cuore del calcio a Corigliano, di venire al campo, noi più di quello che stiamo facendo insieme a voi come società, perché voi vi devono semplicemente fare un applauso a tutti quanti, perché avete creato questo giocattolo, diciamo, come si suol dire, dalla terza categoria portandolo in prima, e attualmente siamo primi in classifica senza naturalmente montarci la testa. Adesso è quello che ci aspettiamo noi dalla gente, dalla gente che gli piace il calcio, però piano piano, oppure gli schizzati, dove tutti quanti noi ci aspettiamo che vengano tutti ad ingitarci, perché questi campionati si vengono anche con loro, specialmente quando in trasferta in quei campi si suol dire caldi, allora abbiamo bisogno del loro apporto, quindi di nuovo un altro appello, ne abbiamo fatto tanto, tanti appelli, quindi speriamo che sia volta buona che piano piano stanno iniziando a venire le persone, ma che vengono di più in massa. Mister, quanto è importante anche in questa categoria cercare di dare un'organizzazione? Io so che gli allenatori in qualsiasi categoria lavorano in maniera maniacale, chi è più appassionato, chi meno, ma quanto è importante l'allenamento? L'ultima domanda conclusiva, proprio perché adesso oltre a parlare degli imprenditori, oltre a parlare dei tifosi, parliamo anche dei giocatori. Allora, quanto è importante l'allenamento? Perché pure Paolo Tirolo ne saltava qualcuno in età. Va bene, no, lascia stare che con l'amico Tommaso ho saltato un po' di allenamenti perché ero infortunato. Guarda, l'allenamento purtroppo è alla base di tutto, perché se noi pensiamo, io ho giocato fino a 45 anni, se non ti alleno non giochi fino a quell'età. Il discorso è che purtroppo noi lo sappiamo, ci sono mille difficoltà che ne parlavamo prima, purtroppo, perché la gente lavora, è gente che lavora, è gente che purtroppo alcune volte manca. Parli di organizzazione, tu mi conosci bene, io su queste cose sono un maniaco a livello organizzativo, a livello di mettere la squadra in campo. Purtroppo piano piano stiamo migliorando anche in questo e tutte le cose si devono fare con la giusta calma e piano piano. Non faremo altro, secondo me, che migliorarci in tutto e per tutto, sia a livello societario, a livello di organizzazione, a livello di giocatori. Io, ripeto, fino adesso gli devo fare solo un applauso a tutti quanti i giocatori per quello che stanno dando, perché anche se alcune volte mi portano finito, perché al campo purtroppo alcune volte non posso nemmeno prendere una squadra. Ma è comune di tante squadre quest'anno? È comune di tante squadre per il fatto di Covid, per il fatto di lavoro, però, ripeto, piano piano, poi alla fine noi abbiamo tutto da guadagnare. Piano piano si vedrà poi. In bocca al lupo? Crepi, crepi, crepi.